Cocaina. Questa è una sostanza che va a stimolare il sistema nervoso provocando diversi effetti, tra cui maggiore socievolezza, euforia, trato tradibito, deficit immunitari, paranoie, infarti e così via. In passato veniva utilizzato come anestetico locale e in caso di sanguinamento durante gli interventi pubblici, ma ad oggi è stato sostituito messi sui diversi effetti collaterali.